Questo video è sponsorizzato da Games, il primo sito di eSports Coaching in Italia. Se vuoi prenotare anche tu una lezione di FIFA con i migliori coach del settore, visite il link in descrizione. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, dopo più di un mese torna finalmente un video sulle tattiche, ma non perché io non volessi portarvelo, ma semplicemente perché il video di cui vi lascio il link anche qui sopra erano tattiche che ancora vanno bene e che tuttora utilizzo. Infatti, quando vi andrò a mostrare questo nuovo modulo, vi farò vedere anche che le altre tattiche che sto utilizzando sono esattamente le stesse del video precedente. È successo però che questi giorni, guardando la iSerie A, ho notato che tantissimi pro player avevano una difesa a 3. Convinto fosse il 3-5-2, ho continuato a vedere la partita e ho visto però che avevano anche due terzini e non degli esterni a tutta fascia. Quindi ho cercato un po' sul web, ho approfondito la situazione e ho visto che stava dominando un nuovo modulo che, come avete visto dal titolo, è il 5-4-1. Modulo che ho scoperto essere utilizzato tantissimo dal pro player Sales Andrea del team Empoli Esports che si è aggiudicato il primo posto nella fase a girone della iSerie A. Quindi modulo che funziona la grandissima, ovvio, in mano ai pro player. L'ho testato per alcune partite, mi è piaciuto tantissimo, però in questo video ho deciso di testarlo anche insieme a voi. Quindi rimanete fino alla fine perché andremo a farci anche una partita insieme. Ora vi mostro le istruzioni e le tattiche, ma prima come sempre un bel like e poi iscrizione al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti che possono essere nuove tattiche oppure nuovi format. E poi vi ricordo sempre che nei link qui sotto in descrizione trovate anche tutti quanti i miei social, quindi se avete bisogno di qualche consiglio potete benissimo contattarmi in direct su Instagram. Oppure venirmi a trovare il live sul sito Viola. Questa come sapete è la mia rosa, quindi andiamo a vedere come ho impostato il 5-4-1. Prima però mi sembra doveroso citare sia i video di Ribera sia il video di Dr. Whites che l'hanno portato prima di me e non posso negare che ho preso spunto ovviamente da loro. Intanto ci tengo a mostrarvi che come vedete 4-2-3-1, 4-2-2-2 e 4-2-4 sono gli stessi del video precedente. Adesso però ho tolto il 4-3-2-1 per impostare questo 5-4-1. Innanzitutto come sede di difesa abbiamo come sempre equilibrato. Ampiezza sì, avete visto bene 1. Ero scettico anch'io, però testandolo vi posso assicurare che per questo modulo è perfetto. Essendo un modulo comunque molto largo, avere l'ampiezza ad 1 vi permette di restare ben chiusi al centro. In più non soffrite nemmeno troppo sulle fasce perché comunque una difesa 5 è comunque ben schierata. Perché avete 3 centrali e 2 terzini, quindi comunque non siete troppo schiacciati al centro. Profondità in realtà nelle tattiche predefinite utilizzate dal pro player c'è 69. L'ho testato, non fa comunque per me la profondità molto alta, lo sapete io prediligo sempre 50-55. Quindi se voi siete come me che preferite avere la difesa schierata e poi eventualmente selezionare voi i giocatori per anticipare e per fare il contrasto mettete 55 e è stato a posto. Se invece amate comunque molto pressare mettete 69 o addirittura potete anche spingervi a 71. Costruzione e manovra come sempre equilibrato, creazione e occasioni come sempre passaggi diretti. Anche come ampiezza offensiva abbiamo 1 perché vedrete poi dopo con le istruzioni che avremo comunque tantissimi giocatori con cui creare la manovra. Per quanto riguarda i giocatori in area è una cosa abbastanza soggettiva, potete mettere 5, potete mettere 6, potete mettere 7. Io mi trovo molto bene con 6. Angoli io preferisco 2 ma in realtà nelle tattiche predefinite del pro player c'era 1. E punizioni 1 perché è completamente inutile mettere di più. Attenzione ora alle istruzioni. Al portiere non solo mettiamo uscite sui cross ma mettiamo anche fuori dai pali. A tutti e tre i difensori centrali ovviamente resta dietro predefinito. Ai due terzini resta dietro in attacco e sovrapponiti. Molto importante e questa cosa segnatevela a inizio partita quando iniziate con questo modulo. Attivate premendo la freccetta in su e poi a sinistra terzini offensivi. Ai due centrocampisti mettiamo resta dietro in attacco, resta al limite e copertura al centro. A entrambi gli esterni invece mettiamo rientra in difesa, taglia dentro e inserisci alle spalle. Alla nostra unica punta rimani centrale e inserisci alle spalle. Potete anche mettere rientra in difesa ma se non volete metterlo come nel mio caso potete poi mettere ripiega all'attaccante sempre tramite le tattiche quelle che potete utilizzare in partita con le freccette. Che giocatori utilizzare? Allora principalmente nella difesa 3 o potete utilizzare 3 difensori oppure come nel mio caso che poi magari voglio switchare con altri moduli abbasso il mio mediano più difensivo che in questo caso è Iaia Touré. Quindi se avete un Phillips, se avete un Turam, se avete un Fofanà è perfetto. Non mettete ovviamente un giocatore come Barella o come Ben Nasserra. I terzini comunque devono essere terzini che sappiano anche giocare palla al piede quindi nel mio caso ho un treno come Capdeviglia e un altro treno molto più tecnico ad esempio Atal ma va benissimo anche Cancelo. Andrebbe bene anche comunque Walker, Quadrato Moments pure Zambrotta. Per quanto riguarda i centrocampisti uno deve essere un vero centrocampista quindi come nel mio caso ho Marchisio che è il classico centrocampista box su box l'altro solitamente può essere anche un giocatore molto offensivo c'è chi utilizza Zidane che se lo può permettere ho visto anche Prover giocare magari con Messi lì a centrocampo insomma qua dipende anche dagli altri giocatori che avete e dal modulo con cui giocate di solito. E infine gli esterni sono i classici esterni nel mio caso ho Mbappé e Marez con cui io mi trovo benissimo. Unica cosa, la punta essendo una punta unica non può essere una punta piccola quindi evitate Butraghigno, evitate Raspatori, evitate Bejater ma puntate a giocatori un po' più fisici Alland, Torres, Morientes ad esempio, Uscidora, Food Fantasy, Cantona e così via. Cosa fondamentale, questo non è un modulo per difendere e nemmeno per mantenere il risultato è un modulo per giocarvela fin dall'inizio. Testatelo e fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati. Ora però non andatevene perché ci andiamo a fare anche una partita. Divisione Elite, quindi comunque lo testeremo ai massimi livelli possibili vediamo un po' che cosa succede. Allora vediamo che squadra. Andersart Prime, Upamecano, De Ligt, Hernandez, Gullit, Mid, Marquisio, Messi, ok. E Gino là in prestito, partiamo male. La prima cosa da fare ragazzi, oltre ovviamente a impostare il modulo fondamentale, freccetta in su e freccetta a sinist per impostare i terzini offensivi. Bravo Nando, molto bene. Fate soprattutto caso all'ampiezza dei giocatori che se non vi dicessi io che è uno non ve ne sareste mai accorti perché comunque in campo vedete che la squadra è molto ben schierata, come vi dicevo proprio prima mentre vi spiegavo le tattiche. Essendo un modulo molto largo ci sa metterlo stretto in modo tale da avere comunque la squadra ben schierata e comunque molto molto compatta anche in gioco. Ecco un'altra cosa buona è che avendo 3dc se uscite male con uno sapete che ci sono gli altri due pronti a coprire il buco lasciato dietro. Vedete? Fondamentali, fondamentali. Sono uscito con Touret e c'era Ramos pronto a coprire il buco. Vedete? Quella sovrapposizione di Atal mi ha liberato spazio ancora al centro. E ho fatto il 2-0, rigioco, scherzavo. Grande Sergio Ramos. Comunque vedete quanto l'avversario fatichi a trovare davvero una giocata o qualcosa che poi possa portarlo davanti alla porta. quindi sta semplicemente a noi. Se facciamo un errore sicuramente ci pulgherà. Poi è ovvio. Se l'avversario è più forte il modo lo trova. Però questo modulo sicuramente vi aiuta a essere più coperti in fase difensiva. Bellissima una triangolazione. Scusate, Atal dove sta? Cioè, senza parole. Si è inserito da solo senza che io abbia fatto nulla. E la chiude Marez. Così. Il mio avversario, come avete visto, gioca molto sulle fasce. Cioè, nonostante l'ampiezza 1, avete visto come io sia comunque ben coperto anche lì. Beh, ragazzi, avete visto un po' come si comporta questo modulo in-game. Ovviamente, vi ripeto, l'ho già testato in altre partite. Ora, tocca a voi testarlo e farmi sapere nei commenti qui sotto i vostri feedback. Come vi siete trovati. E soprattutto se avete fatto anche delle modifiche alle tattiche o alle istruzioni. Fatemi sapere anche se avete bisogno di tattiche di qualche altro modulo. Magari un modulo meno utilizzato e che non vi ho ancora portato. Vi ringrazio. Come sempre, siete visti il video fino a qua. E noi ci vediamo. Alla prossima. Bella. Ciao.